Nel 1963 il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale viene vinta da Pietro Germi e i suoi collaboratori per il film Divorzio all'italiana, che era stato candidato anche alla sezione miglior regia e migliore attore protagonista. Il film vinse anche due Golden Globe, uno per l'interpretazione di Marcello Mastroianni e un altro per Miglior Film. Divorzio all'italiana è sicuramente uno dei migliori esempi della commedia all'italiana. Con Divorzio all'italiana di Pietro Germi il termine commedia all'italiana raggiunge un senso molto più completo, molto più alto. Il termine è stato già utilizzato per definire altri film come ad esempio americano a Roma con Alberto Sordi o i soliti ignoti di Mario Monicelli. Il Divorzio all'italiana è uno degli esempi più importanti di commedia all'italiana. Il punto di partenza è un articolo del codice penale rimasto in vigore fino al 1981, esattamente l'articolo 587, che prevedeva il diritto d'onore. Cioè un fratello, un marito, se trovavano il parente stretto in situazioni compromettenti, avevano la possibilità di utilizzare questo delitto d'onore che aveva delle attenuanti nella pena. E questo è il punto di partenza del nostro film, al cui centro dell'azione siamo in Sicilia, in un piccolo paese di Aspromonte. In realtà è un paese immaginario, il film ambientato a Ispica e nella provincia di Ragusa, vive un barone decaduto, un Ferdinando Cefalù, interpretato da Marcello Mastroianni, che è un barone un po' un bambuccione che passa le giornate a casa, che non ha molta voglia di fare e che non sa nemmeno amare. Ricorda un po' e anticipa quello che sarà il suo successivo personaggio di Guido nel famoso otto e mezzo di Federico Fellini. Ed è sposato assieme a una donna un po' pitulante e un po' bruttina, interpretata da Daniela Rocca, che per l'occasione viene proprio imbruttita, e stanco di questo rapporto con la moglie, si innamora, si infatua di una cugina più giovane interpretata da Stefania Sandretti. Ed è per questo motivo che decide di utilizzare quello che è Il delitto d'onore. Il film in un primo momento doveva essere drammatico. Era tratto da un romanzo di Arpino che si intitolava Un delitto d'onore, ma in fase di sceneggiatura Germi lo cambiò e lo trasformò in una commedia. Questo stupì molto il pubblico e anche la critica, perché Pietro Germi era quasi sempre definito come un autore di film drammatici o neorealisti. Aveva iniziato a metà degli anni 40 con un film giallo poliziesco che si intitolava Il Testimone, del 1945. Poi aveva fatto Il bellissimo In nome della legge, del 48, che è uno dei primi film che va a indagare quello che è l'ambiente della mafia nel meridione. E poi i film di carattere neorealista, come ad esempio Il cammino della speranza, del 1950, il bellissimo film intimista Il ferroviere, che germi anche il protagonista. E poi Un maledetto imbroglio, che è il primo esempio di film poliziesco all'italiana. Per cui con Divorza l'italiana fa veramente un'inversione di tendenza. E lo fa in maniera molto particolare, perché lo stile del film è innovativo. Intanto fa una feroce satira a quello che era la società dell'epoca, cioè con il divario che c'era tra Nord e Sud, e questo Sud che viene mostrato in maniera molto arretrata, che cerca in un certo senso di adeguarsi alla modernità del Nord, ma alla fine non ci riesce, perché tutto chiuso all'interno di riti arcaici, di vizi e di elementi che si ripetono dalla notte dei tempi. È molto interessante lo scontro all'interno del film, proprio tra la modernità e questi elementi arcaici che si ritrovano nella società siciliana. Bellissima è la sequenza del comizio del Partito Comunista Italiano, in cui c'è questo signore con l'accento bolognese, che parla della condizione della donna nella Sicilia dell'epoca. Poi prosegue con una bellissima sequenza del boogie boogie, c'è questo ballo super moderno che arriva anche in Sicilia, ma che viene ballato soltanto tra uomini, perché la donna doveva naturalmente rimanere a casa dietro questi bellissimi balconi completamente nascosta. E poi la modernità arriva all'interno dell'azione anche con un film. Si parla infatti della dolce vita di Federico Fellini, che quando arriva in paese è un fenomeno importantissimo. E anche Marcello Mastroianni, per cui c'è un bellissimo meccanismo del cinema all'interno del cinema, va ad assistere alla proiezione di appunto la dolce vita. Ed è anche un momento chiave per quanto riguarda la narrazione del film. Il film è innovativo dal punto di vista della narrazione, ma anche del linguaggio cinematografico. Il racconto è costruito attraverso l'escamotage del flashback, in cui abbiamo appunto il personaggio interpretato da Mastroianni, che ci racconta tutta quanta la vicenda. Troviamo anche quello che è l'io pensante, che è una novità per quanto riguarda il cinema dell'epoca, è una caratteristica della comedia all'italiano. Lo ritroviamo anche nel soropasso di Dino Risi. E in questo film sentiamo proprio i pensieri del protagonista, tutti i vari ragionamenti, ed è molto bello proprio entrare con lui in tutto quello che sta progettando, che sta architettando. Dal punto di vista del linguaggio cinematografico, tutto quanto è in un certo senso innovativo, cioè il cinema in questo caso si libera di tutte quelle che sono le impalcature. Questo film può assomigliare molto dal punto di vista linguistico cinematografico ai film coevi della famosa novel bug francese, infatti troviamo, come vi dicevo, un montaggio frenetico, certe scene che vengono accelerate, abbiamo delle interferenze sonore, come ad esempio questi venditori ambulanti che continuamente dalla strada disturbano il protagonista. Abbiamo la voce in over che inizia e poi a volte si interrompe per poi essere riprese. Poi abbiamo quasi come degli spot pubblicitari che sono i sogni assassini del protagonista che immagina di uccidere la moglie, che sono dei veri propri gioiellini e uno di questi costò quasi la vita anche alla protagonista interpretata da Daniela Rocca. Poi la musica bellissima di Carlo Rustichelli che definisce molto bene quello che è l'ambiente siciliano e ci troviamo davanti a un vero e proprio capolavoro della Comedia dell'Italiana. Per cui Pietro Germi in un certo senso inizia le danze della Comedia dell'Italiana e ne fa il funerale nel suo ultimo film rimasto incompiuto prima della morte che è Amici miei, che verrà terminato dall'amico e altro padre della Comedia dell'Italiana che era Mario Monicelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.